Ciao, sono Giada Capodilupo, architetto e docente certificato Autodesk da Adalarchitettura.com. Aiuto tutti i progettisti a posizionarsi meglio più velocemente nel mondo del lavoro attraverso corsi altamente specializzanti e qualificanti, con cui impari tutti i trucchi del mestiere, come velocizzare il tuo lavoro senza perdere la qualità e senza perdere tempo, perché vado dritta al punto e ti dico tutto ciò che ti serve per lavorare al meglio delle tue prestazioni. In questo video ti voglio mostrare come mai spesso ci si incaglia nel realizzare degli abachi dentro Revit. Gli abachi sono quelli che ti permettono di computare gli oggetti che hai disegnato e per questo è fondamentale che tu possa sommare tutto ciò che è quantità similare, in modo tale da estrarre le quantità da inserire nei software che ti poi realizzano un computometrico estimativo. In più delle volte tutti si scordano che per calcolare dei totali all'interno di un abaco di Revit bisogna fare non una, bensì due operazioni e questo purtroppo ci cascano tutti quanti, anche quando ho visto i miei studenti di questo poi quando vanno a fare l'abbaco puntualmente mi dicono ma non mi esce l'area o non mi esce il totale o non mi esce un altro numero. Allora vieni con me e capiamo come mai spesso i totali non escono e come fare per farli uscire. Eccoci qua in una situazione di Revit in cui ho inserito varie tipologie di muri, quindi ci sono più muri di diverso tipo. Innanzitutto creiamo velocemente un abaco, ovviamente all'interno del mio corso che trovi su www.adararchitettura.com slash adaracorsi, tutto questo è spiegato in maniera molto molto calma, tranquilla, passo per passo, step by step. Qui ci soffermiamo su una cosa in particolare, perciò io intanto vado veloce, non sto a spiegarti come si fa un abaco, do per scontato in questo video che sai farlo già per conto tuo. Allora, detto ciò ci serve l'area, percianto la inseriamo, eccolo qua, e io direi che ci fermiamo così e aspettiamo che venga creato il nostro abaco. Dunque, generalmente la prima cosa che si fa quando si vuole calcolare il totale è andare sul sorting and grouping e dirgli che vuoi avere i totali parziali, quindi per famiglia e per tipo, perché ovviamente un muro perimetrale avrà necessità di essere conteggiato diversamente rispetto a un muro perimetrale, fosse soltanto perché necessita di tipologia e di mottone diversa, senza contare poi tutti gli strati aggiuntivi, quali isolante, impermeabilizzanti e così via. Quindi la prima cosa che vado a fare è dirgli che io voglio dividere per famiglia e tipo e che ai piedi di ogni famiglia e tipo io voglio sapere semplicemente i totali. Do l'ok e però rimane questa riga vuota e dice, ma come mai io ho dato il totale eppure non accade nulla, non succede nulla. Allora, questo perché dentro sorting and grouping non gli stai dicendo di calcolare il totale, gli stai dicendo che lo vuoi solo vedere. Non è questo il menu sotto il quale dirgli che lo deve calcolare. Tutto questo avviene sotto la formattazione e devi dirglielo anche sul parametro giusto. Tu stai calcolando desideri il totale dell'area. Perciò ti sposti sul parametro desiderato e qui gli vai a dire che vuoi il totale. Quindi sotto formattazione gli dice che vuoi calcolare il totale, sotto sorting and grouping gli dice che il totale lo vuoi vedere. Sono due cose ben distinte. Ed eccolo qua, il nostro totale perfettamente calcolato. Parziale per il muro perimetrale e parziale per il muro invece divisorio. Ovviamente qualora avessi voluto il totale complessivo lo puoi fare. Dici vai qua, eccolo qua, ed eccolo il totale complessivo. In questo caso ai fini di un computo metrico estimativo ovviamente il totale complessivo non ci serve, ma magari invece se si fosse trattato di infissi o di porte per esempio potrebbe essere stato utile. Bene, questo era un piccolo trucco ma ti assicuro molto utile perché tantissimi dei miei studenti spesso poi, nonostante nella teoria gli venga detto, nella pratica si incagliano e non riescono a capire come mai non gli vengono i totali. Quindi ricordati che ci sono due modi dentro Revit per poter calcolare il totale. Prima di tutto gli devi dire che il totale lo deve calcolare e lo fai attraverso il menu della formattazione e successivamente vai nel menu sorting e grouping per dirgli che il totale lo vuoi vedere, ma tutto ciò che è calcolo sta all'interno della formattazione. Se questo video ti è stato di aiuto ti invito a condividerlo con amici e colleghi e a iscriverti sul mio canale YouTube in modo tale da rimanere sempre aggiornato su tutti i video che faccio di settimana in settimana. Se hai degli argomenti di cui desideri che io parli non esitare a scrivermi e sarò felice di risponderti nei prossimi video. Inserisci subito la tua email al link qui sotto per ottenere gratuitamente subito il primo video del mio videocorso in modo tale da rimanere subito aggiornato su quelli che sono i software più utili in questo momento e immediatamente posizionarti nel mondo del lavoro. Io ti saluto e ti aspetto al prossimo video. Ciao!